Il ponticello sul lungo fiume, crollato in seguito al passaggio di un mezzo della Teramo Ambiente, non verrà ripristinato. Nonostante le verifiche effettuate con celerità, i provvedimenti disciplinari presi per il conducente del mezzo che ha provocato il cedimento della struttura e le promesse da parte di Team e Primo Cittadino che i lavori di ripristino del ponticello sarebbero iniziati nel giro di qualche settimana, dopo sei mesi, amministrazione e Teramo Ambiente hanno redatto un progetto alternativo che prevede di utilizzare i fondi in arrivo dall'assicurazione per realizzare un percorso ciclopedonale e un parco giochi. Il motivo è che ricostruire quel ponticello comunque comporta un onere finanziario importante. Siccome non ce n'è una necessità oggettiva, nel senso che quel ponticello scavalcava un'area che era frequentata ma insomma che non aveva un senso, allora l'idea è quella di fare un percorso alternativo che già c'è, migliorare quel percorso, portare via il ponticello e a posto diciamo in quella zona creare un parco giochi per i bimbi. Siccome non c'era un motivo perché non dobbiamo, il ponte normalmente serve per oltrepassare qualcosa, in quel caso non si oltrepassava quasi niente quindi abbiamo pensato che non c'era questa necessità, è una soluzione molto più semplice, molto più lineare, molto più veloce e che comunque ci dà anche la possibilità di una risposta cioè quello di creare un'area giochi per i bimbi.